Siamo signora, abbiamo un datore di lavoro all'esterno qui che sta facendo il colloquio a Viviana, vediamo il datore di lavoro qui con la bimba, lo vedete lì, e stanno facendo il colloquio, la madre con la bimba sta facendo il colloquio a Viviana. E poi ci sono anche due ragazze qui che stanno aspettando, c'è Mufijul, come vedete Mufijul sta qua e stanno aspettando anche queste due ragazze a fare anche loro il colloquio con il datore di lavoro, quindi noi ringraziamo queste persone che sono arrivate, poi ci saranno anche queste ragazze qui che faranno il colloquio con il datore di lavoro, lei ha già fatto il colloquio con il datore di lavoro, l'ha già fatto, e c'è la sua amica che ha trovato lavoro grazie a Dio, e poi abbiamo anche altre persone che sono qui presenti, noi ringraziamo il signore anche per Dawa, Dawa ha trovato lavoro, vero Dawa? Vero, sì. Sei contenta, sì? Sì, contenta. Grazie, grazie a Dio, grazie a Dio, benissimo, c'è anche questa ragazza qui, poi c'è anche Alessandro e c'è Maria che sono lì all'interno, Alessandro è all'esterno e Maria è all'interno che sta lavando qualcosa. Noi ringraziamo il signore per questo ben di Dio che c'è, tutti i giorni così, grazie a Dio, tutti i giorni, già è andato via Giorgio con Chiara, con la sua amica, con altre persone, sono già andati via, hanno preso la lista lavoro e loro hanno un gruppo dell'ACAP che è collegato con noi a Via Paolo Mercuri, a zona Piazza Cavour, ogni domenica si riuniscono in questa chiesa qui, dove c'è scritto in alto, locale di preghiera cattolica, vedete anche c'è scritto domenica, Via Paolo Mercuri numero 2, ore 12.15, in quella chiesa là ci sono le persone che si riuniscono, e grazie a Dio per la sua parola, adesso ci sarà la condivisione della parola di Dio.